Ciao, chi siete? Io sono Victoria. Io sono Leonora. Ci spieghi in 5 secondi il Master? Il Master è lezioni frontali con i docenti dell'Università Sororsola Benincasa. Il Master è laboratori sensoriali alla città del gusto di Napoli. Ragazzi, ma allora avete trovato lavoro? Io curo la comunicazione per aziende enogastronomiche. Io mi occupo di far conoscere le eccellenze del nostro territorio. Grazie.